Torna un grande evento sportivo nel prossimo fine settimana, infatti si disputano a Castiglion Fiorentino gli assoluti d'Italia Enduro e della Coppa Italia con tre prove speciali in un tracciato di 47 chilometri. A fare da apripista Gioele Meoni che tra l'altro è impegnato a portare avanti un progetto umanitario denominato Dakar for Dakar. Sono già 170 gli iscritti per questa manifestazione che ogni anno richiama il fiore della categoria ad iniziare da Andrea Verona, Alex Savini, Thomas Oldrati. Non mancheranno i piloti stranieri, le speciali si svolgeranno con l'enduro test al Cippo Meoni di Partini, l'estrema test alla foce e il fettucciato alla noceta. Oltre 200 le persone coinvolte a conferma del grande livello organizzativo della società che festeggia i suoi 50 anni di attività.